Due volte al mese circa, anche con i parenti. Certo, non mi fa così tanta paura. Penso che comunque se ti proteggi, forse evito i posti troppo affollati, ma comunque ci vado. Vado molto raramente a Milano, siamo appena rientrati da un viaggio. Ci hanno anche misurato la febbre in aeroporto, ma voglio proprio dire che non ho paura. Comunque prendere precauzioni se si va giù a Milano, quello è il minimo. Andando a Milano metterai qualche precauzione in più? Sì, magari una mascherina metterai. Milano sì o Milano no? Io sì, sì sì. In realtà se ci penso dico no, vabbè, non devo farmi prendere dal panico, quindi direi di sì. All'atto pratico io non ci andrei, no. Non ho paura, non andrei in giro con le mascherine, neanche con i guanti e andrei lo stesso a Milano, assolutamente. Lo possiamo prendere qua, lo possiamo prendere a Milano. Vado ogni tanto con il treno per fare shopping, poi in questo momento magari evito di andarci anche perché posso comunque fare acquisti online. No, sinceramente da tanto che non vado a Milano, ci vado pochissimo. Se dovesse avere occasione sinceramente ci vado, non mi spaventa questa cosa del coronavirus. Spesa in Italia o in Svizzera? Io di solito la faccio in Svizzera, comunque a prescindere. Consiglio di farla online, come la faccio io, ovviamente adesso e anche per sempre perché è molto comoda. Ma io farei anche la spesa in Italia, ad esempio a Ponte Teresa che è comunque vicino al confine. Io la faccio in Italia la spesa e l'unico problema è che siamo andati un paio di giorni fa e c'era poca roba da mangiare, perché hanno svaliggiato tutta la carne, quindi non saprei, però continuo a farla in Italia, visto i prezzi.